ciao ragazzi nuova borsa particolari viola con le carpe vedete quanto è bello e hanno pure i glitter le carpe vedete bello potete portarla a mano tracollo abbiamo due tasche e abbiamo anche un'altra tasca con zippa e non è neanche poi tanto piccola a me piace tanto il colore e le carpe i pesciolini allora il prezzo ve l'ho fatto vedere con la tessera avete uno sconto del 10% anche se non sono in svendita quindi se dovete prendere qualche cosa fate la tessera e con questo vi saluto ciao alla prossima